Questa è la uscita, guarda, è uscita, quindi facciamo qui, partiamo le scale, ma solo fino al partito dell'anale. Traversiamo per le strecce e dopo a destra, in somma, nella luce, in giro, più o meno, è un profondo facile, guarda, adesso andiamo qui insieme a questo, qui si riepola.